e distruggiamo il ceto medio, rendiamo tutti dipendenti dal mercato, voi valete quello che abbiamo voglia di pagarvi, fine delle differenze, questo è un liberismo, tranne una, quella fra i veramente ricchi e tutti gli altri. Per il resto un unico mare omogeneo di persone trascinate dai vortici del ciclo economico e tutte collegate fra di loro in mille modi stupidi e mai in alcun modo sensato. Amicizie di Facebook, finché volete, l'opera di classe, mai, coscienza di classe, mai. Fine di ogni corpo intermedio, fine di ogni struttura sociale, partiti, sindacati, tendenzialmente fine degli stati, tendenzialmente fine dei confini. Ma che mare ti fa a imbarcare qualche centinaia di migliaia di neri tutti gli anni? Non sarai così malvagio da rifiutare l'ingresso in Italia di questi. Fine delle differenze di classe. Non ci sono più i negozi di abiti da uomo che vendono i vestiti a 2000 euro l'uno, ci sono quelli che vendono i vestiti a 150 euro l'uno e poi uno a Milano che vende i vestiti a 10.000 euro. Questi sono i numeri. Naturalmente tutto ciò contiene contraddizioni, non va, non gli è andata liscia. Era cominciato dicendo coraggio diventerete tutti come Bezos, come Bill Gates, ce la potete fare. Gli ha scoppiato in mano la bolla nel 2008, adesso sono qui che dicono maledetti come avete osato essere poveri e fare dei debiti. Gli ha scoppiato in mano un bel po' di roba. La legittimità del neoliberismo non è più tu puoi diventare un miliardario, ma è non c'è alternativa. Non vorrei mica tornare al signoraggio, cioè quando la politica comandava sull'economia, quando il ministero del tesoro comandava sopra la banca d'Italia. non vorrei mica tornare, non penserai mica di tornare al comunismo. Non c'è alternativa, smetti di fantasticare. La realtà è quella che ti hai davanti, non ce n'è un'altra, non ce ne può essere un'altra. Produce contraddizioni, che ritieni. A questo punto ci sono le due opposizioni, quella dei partiti mainstream che si autodefiniscono di sinistra, che dicono no ma riusciamo ad altutirle queste contraddizioni. Si può stare nel neoliberismo senza farsi troppo male. Prima diceva che era bellissimo, che era tutta un'opportunità meravigliosa. Adesso dicono no, c'è qualche problema ma se dai rent a noi non ti farai troppo male. poi ci sono quelli che dicono no, noi siamo antisistema, buttiamo all'aria tutto, però vogliono buttare all'aria essenzialmente la sola struttura, il discorso. Se il neoliberismo è monista, questi sono cattivisti. Se il neoliberismo è tutto accoglienza, questi invece sono tutto respingimento. se il neoliberismo, se i partiti di centro-sinistra filoneoliberisti, ma come dire, progressisti, dicono loro, sono tutti centrati sopra la redistribuzione, che poi non distribuiscono nulla, perché non c'è niente da ridistribuire. Questi qui invece sono tutti centrati sull'appattimento delle imposte a parole sulla semplificazione burocratica. Ancora a parole. Cioè modello, se ormai, diciamo così, ortoliberalismo da una parte, neoliberalismo dall'altra. Cioè Salvini e Trump. C'è un che dice, ci teniamo il capitalismo nella sua forma più sfrenata, che va sicuramente meglio delle assurde regole dell'Europa. E la sinistra? E io vi dico, e la sinistra? La sinistra si è bevuta tutto. Ha accettato tutto. Mi ha detto che era vero, che andava bene così, che la globalizzazione ha fatto tanto bene ai cinesi. E la risposta è, ho piacere, naturalmente. Spero che il presidente, il segretario generale dell'Europa cinese abbia la stessa considerazione verso di noi che tu hai verso di loro. La sinistra è scomparsa. Ha perduto l'idea fondamentale della sinistra che la società è conflittuale. Non ce l'ha proprio. Non ce l'ha proprio. Non ce l'ha da fare, non ci riesce. Cioè, per uno del PD, un imprenditore e un operaio sono uguali. Come per Cavour. Per carità, un gran uomo, però non ce l'ha proprio di sinistra. Un imprenditore un operaio, un operaio non sono uguali. Ma per il PD sì. Non hanno gli stessi interessi. Detto in un altro modo. C'è ancora il dominio. C'è ancora l'oppressione. Ci sono ancora i crescenti, le differenze, ma non solo di ricchezza, ma le differenze di sapere, di potere. Si è scassato tutto. L'ascensore sociale è rotto. Il legame sociale non c'è più. La gente è cattiva. Adesso sì che si può dire che è diventata cattiva. Certo, dopo che hai spiegato perché è diventata cattiva e chi l'ha fatta diventare cattiva. È diventata cattiva perché gli hai tolto i diritti. Gli hai detto che capitavano certe cose e non sono capitate. Perché la gente sta peggio di prima e sa che il futuro starà peggio di come sta oggi. È così facile. Non c'entra la morale. C'entra che è stata distrutta un'idea di società. Un'idea di società inclusiva in cui si sapeva che c'erano i poteri differenti, le classi differenti, e c'era il conflitto, e c'era la egemonia di uno o dell'altro, e c'era l'equilibrio dato dalla politica, che era tuttanto che subalterna. Comandava. C'era un ministro democristiano che comandava, non era uno che prende l'ordine. Un ministro di oggi è uno che prende l'ordine. Allora, voi direte, beh, in buona sostanza la solidarietà. La solidarietà diventa un problema quando ci si accorge che, con le regole attuali, la nostra realtà politica, chiamata Italia, non è più padrone di se stessa. Non può più decidere che cosa può e vuole essere. Non lo può più fare. Ma non l'ha mai potuto fare perché è piccola e la critica. È una questione di gradi, gradi di libertà. Noi oggi non ne abbiamo troppo finis.